ACCOMPAGNACI A I MONDIALI CON UN TOCCO DI TALENTO Diego ha ragione. Scegli Talent. Scegli Digivision. Sono stato testimone dell'unicità del talento di Diego Maradona e devo ammettere che all'epoca anch'io l'avevo divinizzato. Quando ero adolescente, ero orgoglioso di poter dire che l'Argentina aveva il successore del re Pelé. Tuttavia, quando divenni giornalista, con il passare degli anni, iniziai a mettere in discussione quello che faceva fuori dal campo e nei 30 anni di lavoro ho visto molte volte come la fama e il denaro possano cambiare gli atleti in meglio o in peggio. Questa è la vera storia dell'uomo spogliato della sua maglia. Ricorderò sempre Maradona. Maradona è parte della mia vita. Lito Pintos conosce molto bene Diego perché per 15 anni viaggiarono insieme in tutto il mondo. Lito faceva parte della cerchia ristretta di persone più vicine a Maradona. I tifosi di calcio non lo dimenticheranno mai perché è il più grande di tutti i tempi. aveva una caviglia che non girava completamente ma aveva il carattere, aveva la capacità di essere un leader, aveva tutto. Una sua parola mobilitava la squadra. Un tempo le parole di Diego erano parole sante per gli argentini. Applaudivamo a tutto quello che diceva. Siccome Maradona era di origini molto umili, gli piaceva difendere i poveri dai ricchi. Ricordo che una volta definì Papa Giovanni Paolo II un ipocrita. Era un papa molto popolare in quegli anni. Mi ha criticato per aver speso un milione e mezzo di dollari per il matrimonio con la donna con cui sono fidanzato da 15 anni. Cosa gliene importa? Perché quando fa i suoi viaggi in Africa, bacia la terra africana, ma non tira fuori l'oro che tiene per darlo ai bambini poveri. Queste frasi riassumono il suo atteggiamento in generale. Lui non era disposto ad abbassare la testa né a inchinarsi davanti a nessuna autorità, né davanti al Papa, né davanti a nessun capo di Stato, e tantomeno davanti alla FIFA. E mettendo in discussione le autorità, inevitabilmente si fece dei nemici. C'era chi non piaceva e c'era chi lo amava. A Maradona piaceva farsi dei nemici perché questo lo motivava. Lui contro tutti e poi sapeva di avere l'appoggio incondizionato dei suoi tifosi che avevano in lui la massima fiducia.